Sgrano le fotografie di casa Sia tra le alte cime o giù in città Tra la seta e l'eco del cannone Scorre un fiume di comunità Per di qua Per di qua Per di qua Roberto Antolini è stato direttore della Biblioteca del Marte e si è occupato spesso di temi storici. È autore del libro Verso il Brennero, luoghi nel tempo, edito da Publi Stampa Edizioni nel 2018. Pronto? Pronto Roberto, buongiorno, sono Elisabetta. Ho qui il tuo libro, posso farti qualche domanda? Benissimo. Questo è un libro di argomento storico dalla struttura molto originale. Hai scelto di percorrere alcune zone del Trentino Alto Adige partendo anche da spunti autobiografici per raccontarne alcuni momenti storici particolarmente significativi. Puoi spiegarmi perché e come sei arrivato a dare questa particolare forma alla tua ricerca? Sì, allora, è un libro effettivamente un po' strano perché ci sono varie tipologie testuali che sono mescolate insieme. C'è prima di tutto, diciamo, la divulgazione storica. Ci sono notizie storiche, personaggi, vicende del territorio. Una parte di questi elementi storici provengono da mie ricerche dirette tipo sulla zona di Roveretto c'è un testo che si titola Verso il Brennero e quello è la rielaborazione di una serie di articoli miei su riviste di storia come Studi Trentini. Mentre per altre cose, per gli Annabattisti per esempio e per il racconto della zona di Lavarone io ho usato semplicemente la bibliografia esistente. Ho riscritto quelle storie, ho fatto il punto sulle cose che erano state appurate dagli storici cercando di dare un taglio narrativo. È un libro di divulgazione storica che però vuole allargare un po' l'ambito dei lettori dei libri di storia. Di solito i lettori dei libri di storia sono molto tecnici, è un circuito ristretto. Io ho cercato di raccontare le cose, le vicende storiche, il territorio, il territorio che si vede e le vicende storiche lo hanno segnato. si vede attraverso un viaggio, perché questo è l'altro filone del libro, in modo narrativo, cioè usando dei personaggi, le loro storie personali e i segni che la storia ha lasciato nel territorio. Un altro aspetto che rende il tuo libro particolarmente interessante è la ricchezza e la diversità delle fonti. Una caratteristica che, secondo me, lo rende in grado di raggiungere un pubblico ampio. Che lavoro di ricerca c'è alle spalle di questo risultato? Le fonti sono, per quanto mi riguarda, per le cose che ho studiato io e poi anche per gli storici che ho attinto, ovviamente prima di tutto quelle canoniche, le fonti d'archivio, gli scritti nei vari personaggi. Dopo però, siccome appunto cercavo, ho cercato di raccontare la storia come un viaggio attraverso territori che portano il segno della storia nella propria immagine, immagine architettonica, ambientale, paesaggistica anche proprio. Quindi, insomma, tutto quanto è stato fatto entrare in gioco. Per esempio, si racconta l'età della seta a Rovereto tramite una passeggiata attraverso il centro. E qui ovviamente la forma del centro di Rovereto, del centro storico, l'aspetto degli edifici, dei palazzi, degli edifici che sono stati filatoi, diventa fondamentale. Anche proprio l'aspetto estetico. Cioè, a Rovereto nel 6-700 si è fermata un'architettura razionalista, però senza troppi svolazzi, barocchi, senza troppi svolazzi, diciamo, aristocratici. Proprio perché è una cittadina produttiva, Rovereto, è un centro di palioindustria, governata dai mercanti, e quindi questa identità sociale si riverbera anche nella forma dei palazzi, che sono solidi, devono dare l'impronta di famiglie che hanno le risorse e sono affidabili economicamente, però evitano i lussi eccessivi fino a un certo punto, finché poi invece ci sarà una trasformazione aristocratica. E poi voglio ricordare il fatto che ci ho messo dentro anche della letteratura. Cioè, a Rovereto si sono scritti libri, poesie, poemetti, racconti, anche se sono poco conosciuti, poco pubblicati, soprattutto io ho voluto raccontare la famiglia Giovanni, che è una famiglia di piccoli imprenditori della seta che arrivano dal Veneto e che da principio sono appunto imprenditori ruspanti, alla fine producono da una parte un nobile, un arricchito, un mercante arricchito che diventa nobile e dall'altra parte un letterato Giovanni e quindi io ho usato anche le novelle, novelle in versi, dialettali, che scrive Giovanni per far vedere, per far raccontare la Rovereto settecentesca con la sua voce. È questo il testo, è un insieme di fonti diverse, alcune canoniche, d'archivio, e però poi altre meno canoniche che cercano di trarre spunto da tutto quello che si vede in un attraversamento della città. Questo è su Rovereto, gli altri brani, per esempio quello di sugli Annabattisti e la Posteria, hanno la stessa ambizione, insomma, quella di raccontare un territorio attraverso le storie che in quel caso sono prese dai libri scritti da altri, ma anche dall'aspetto, dall'immagine del territorio e delle costruzioni umane che lo hanno modificato. Una parte consistente del volume è dedicata a Rovereto nel periodo dell'industria della seta. Questa attività produttiva fece la fortuna della città. Come mai non ha avuto il medesimo sviluppo a Trento doveppure è raggiunta prima? Sì, è vero. Soprattutto l'industria della seta, la tecnologia del filatoio d'acqua alla bolognese, che è una delle tecnologie che prepara la rivoluzione industriale, che crea la fabbrica come poi l'abbiamo conosciuta nell'Ottocento, arriva prima a Trento. Questa tecnologia si sviluppa a Bologna e viene tenuta, però, appunto, siccome è un gap tecnologico rispetto ai concorrenti, segreta. Ci sono leggi che impediscono ai lavoratori che sono a conoscenza di questa tecnologia di portarla altrove. però, invece, il diavolo crea la padella ma non i coperchi. Questa tecnologia arriva a Trento negli anni 30 del Cinquecento, portata da due bolognesi, due lavoratori, due tecnici bolognesi. arriva a Trento perché c'è una società di famiglie altolocate di Trento, famiglie nobili, guidate da Quetta, che era il, diciamo, il capo del governo del Principe Vescovo, che, appunto, mettono insieme una società, mettono i capitali e richiamano, riescono a portare a Trento due lavoratori, che, quindi, portano la tecnologia. Diciamo, lo spionaggio industriale avviene su Trento ed è, come avrete capito, protetto dal, anche proprio dal potere politico e dalle famiglie più ricche. Però lì non si sviluppa e, invece, da lì si trasferisce a Rovereto. Qui sarebbe lungo il passaggio, il racconto e è tutto da studiare ancora. Ma, comunque, questa tecnologia la troviamo poi a Rovereto e fa fare un salto di qualità al mondo della produzione della seta roverettano. A Rovereto la tecnologia, l'affilatoio alla Bolognese, arriva negli ultimi decenni del Cinquecento. qui ci sono già la produzione artigianale, arrivano alcune grosse famiglie di imprenditori tedeschi, di Norimberga, soprattutto, che portano i capitali e la tecnica commerciale più avanzata del tempo e impiantano la produzione su grande scala tramite i filatoi d'acqua alla Bolognese. A Trento c'era una mentalità ancora aristocratica, feudale. I mercanti non potevano muoversi liberamente. Qui si è creato un ambiente favorevole alla mercatura, favorevole alla produzione, favorevole al mercato internazionale, perché Rovereto era una cittadina governata proprio dai mercanti. Le sue famiglie più importanti sono famiglie di origini mercantili, sono quelle che tengono anche l'amministrazione della città e quindi qui può crescere e svilupparsi liberamente un'economia già di mercato che arricchisce la città per alcuni secoli. Un'altra questione molto interessante che affronti è la presenza degli anabattisti in Alto Adige nel Cinquecento. Si tratta di una pagina della storia di questa regione di cui si sa pochissimo. Per quale motivo? Eh sì, in effetti, questa è una bella domanda. Nel Cinquecento gli anabattisti sono, dicono gli storici, ventimila. Gli anabattisti tirolesi sono ventimila. In una popolazione tirolese complessiva che era di 350.000 abitanti. Quindi è una bella fetta di popolazione, non sono gruppetti insignificanti. è un pezzo della comunità cristiana di allora che segue uno dei filoni più radicali del mondo protestante. Vi ricordo che nel 17, nel 1517, Lutero inizia la rottura dell'unità del mondo cristiano creandosi, diciamo, una propria criesa riformata. Oltre a quello di Lutero ce ne sono altre, ci sono quella di Zingli che si sviluppa in Svizzera. Ci sono vari correnti. Alcune sono correnti radicali e gli anabattisti sono, diciamo, la corrente più radicale della riforma protestante. L'obiettivo che si pone è quello di costruire comunità, comunità di santi, dove si applica concretamente l'insegnamento evangelico, dove addirittura non c'è la proprietà privata. Si gestiscono le cose insieme, con la proprietà comune. gli anabattisti appunto si diffondono, come dicevamo, in Tirolo capillarmente. A un certo punto sono un problema di ordine pubblico per le autorità che vogliono bloccare la diffusione dell'anabattismo e a questo punto fra una repressione durissima, in un documento si parla di 600 esecuzioni, e poi la repressione quotidiana anche di quelli che non vengono massacrati, a cui venivano tolti i bambini, i campi, eccetera, produce una grande migrazione. Cioè, gli anabattisti tirolesi e quelli di altre parti d'Europa cominciano a costruire comunità fraterne che sono aziende agricole gestite collettivamente senza proprietà, dapprima in Moravia e c'è l'organizzazione anche proprio dell'esodo, di questi perseguitati per ragioni religiose e poi progressivamente, siccome la controriforma appoggiata all'Eosburgo si sposta sempre più a oriente, dalla Moravia, poi passano in Ukraine, in Russia e nell'Ottocento soprattutto andranno in America. e il mio l'ultimo racconto anabattisti in posteria è il racconto della ricerca dal viaggio alla casa natale di Jakob Hutter. Jakob Hutter è stato il più importante capo Ancora i suoi seguaci in America si chiamano Fratelli Hutteriti e vicino a Brunico in Pusteria c'è il maso dove Jakob Hutter è nato e da qui è dovuto fuggire naturalmente. È un po' come la storia del seme che se non muore non dà frutto di cui parla il Vangelo. Anche questa storia di Jakob Hutter e dei suoi 20.000 compagni sembra che sia scomparsa che sia morta però come il il seme che germoglia sono morti sono scomparsi lasciando frutti lasciando frutti intorno a noi frutti che ci arrivano addirittura dall'America e comunque dal mondo moderno in cui noi viviamo. Grazie Roberto grazie per il tempo che mi hai dedicato buona giornata grazie a voi di avermi dato modo di far conoscere questo libro grazie arrivederci ciao la seta più piccolo più elegante non stretto tra catapecchie rustiche ma da una lunga fila di ragguardevoli dimore signorili si dice ma lo si dice di quasi tutti i palazzi della provincia italiana che vi soggiornò Napoleone per una notte e il 4 settembre 1796 vi avrebbe ricevuto i notabili della città graziosamente rivolgendosi a loro in italiano e informandosi sulle condizioni economiche del luogo Ambrogio Rosmini si chiamava l'architetto cui Giovanni Maria affidò alla costruzione del palazzo Rosmini come l'abate Antonio cugino del bisnonno e la leggenda vuole che il filosofo venisse avvelenato proprio qui in casa del parente si racconta di un pranzo dopo il quale il grande pensatore avrebbe cominciato a stare male morendo non si sa più se sei settimane o sei mesi dopo in questo romanzo Isabella Bossi Fedrigotti racconta la storia della sua famiglia attraverso la descrizione della loro grande e antica casa quella dei conti Bossi Fedrigotti è un'antica nobile famiglia di Rovereto e raccontare la sua storia significa anche raccontare un pezzo della storia della città i suoi ricordi di infanzia e di giovinezza si intrecciano con le storie degli antenati che hanno occupato quegli spazi prima di lei l'autrice apre la porta di ogni stanza e così facendo le camere da quelle più signorili fino a quelle di servizio tornano ad essere occupate dai nonni dai bisnonni dalla numerosa servitù dei tempi passati dai parenti più eccentrici le zie e suore e gli istitutori ogni oggetto diventa lo spunto per un aneddoto che si allaccia alla storia della città e alla grande storia le guerre mondiali i periodi di sviluppo economico e quelli di crisi sono degni di nota ma lo sono anche i momenti minuti gli amori e i lavori della servitù i momenti di ribellione dei giovani e le piccole follie degli anziani oggi ho esplorato la valle dell'adige con il saggio storico verso il brennero e con magazzino vita un romanzo affascinante poetico e ironico sgrano le fotografie di casa sia tra le alte cime o giù in città tra la seta e l'eco del cannone scorre un fiume di comunità per di qua per di qua per di qua e l'eco